Beato chi ascolta la parola di Dio. Cristo risorto, buona giornata carissimi amici. Anche oggi il Vangelo, la parola di Dio, ha qualcosa da dirci e da illuminare la nostra vita. Lo accogliamo in due versetti, Luca 11, 27, 28. Mentre diceva questo, una donna dalla folla alzò la voce e gli disse Beato il grembo che ti ha portato e il seno che ti ha allattato. Ma egli disse, beati piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio e la osservano. Amen. Cari amici, due versetti. È un po' poco. Innanzitutto sappiate che questi commenti al Vangelo non sostituiscono la vostra preghiera personale. Non è che uno, se mi guarda, che commento la parola e dice oggi ho pregato. Sì, preghiamo un po' alla fine, due minutini, tre. Però questo dovrebbe essere una porta ad una relazione con Dio. Dovrebbe essere il riscaldamento di ciò che poi avviene. Cioè una lettura della sua parola alla sua presenza, con l'invocazione dello Spirito Santo e con le richieste, come stiamo ascoltando in questi giorni, da Luca 11, il Padre nostro, nei cieli che ci ascolta e viene in nostro aiuto. Vediamo in questi due versetti che si parla della madre di Gesù. Una donna dice, beata questa donna che ti ha portato, che ti ha allattato. Gesù risponde dicendo, beati piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio e la osservano. Allora Gesù non sta diminuendo la figura di Maria, assolutamente. Anzi, la sta elevando, dicendo in lei voi dovete trovare un modello. Un modello di ascolto, di fedeltà, di disponibilità. E' Luca l'unico evangelista che parla dell'infanzia di Gesù, ma anche nell'annunciazione di questa bellissima vicenda dove Maria, all'ascoltare l'annuncio dell'angelo e di un progetto stravolgente, sconvolgente per lei e per tutti, dice, eccomi, sono la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola. Maria ha ascoltato l'annuncio, la parola profetica dell'angelo da parte di Dio e l'ha accolto pur non comprendendola. Gesù dice, beati, beata lei e beati voi quando ascolterete la parola e la metterete in pratica. Maria ha fatto così, l'ha accolta e ha detto, sì Signore, ci credo, attendo che si realizzi. E quando vedeva Gesù crescere, anche quando sono andati al Tempio, hanno ascoltato da parte di due profeti delle profezie su quel bambino, su Gesù, servava e custodiva nel suo cuore quelle parole. Il modello, carissimi amici, del discepolo è proprio Maria. Maria in quanto, con lei che ascolta, con lei che non mette davanti la comprensione. Noi siamo razionali, noi ascoltiamo di solito e diciamo, ah non capisco, non ci credo, sarà vero, ma... Maria invece mette davanti l'obbedienza. L'obbedienza significa credo, anche se non capisco. Noi invece solitamente diciamo, questa parola è difficile, è dura, non la capisco. Questo è il modello. Ascolta, accogli, osserva la parola e sarai beato e vivrai una beatitudine in tutta la tua vita. Sperimenterai il progetto di Dio che è vivo se tu l'accogli, è vivo se tu sei in questa disposizione. Ma se quando la parola, come un seme, dice Gesù, cade sul tuo terreno e trova le spine, trova i rovi, trova i sassi, non può portare frutto. Il frutto c'è quando è un terreno fertile. Quando prima della ragione tu lasci che entri nel cuore la sua parola e produrrà grande, grande frutto. Allora insieme a me pregate, preghiamo dicendo, Signore Gesù, io voglio accogliere il seme della tua parola oggi. E anche tutte quelle volte in cui sono indietreggiato, mi sono arreso dal comprendere quello che tu mi volevi dire. Signore, fa che i miei orecchi ogni giorno siano tesi verso la tua voce, in quanto mio buon pastore. E fa che il mio essere, il mio agire, possa davvero mettere in pratica questa bellissima parola, così come ha fatto Maria. E anche io ti dico, eccomi, Signore, oggi. Vengo a te così come sono, voglio essere un tuo servitore. Fai di me quello che tu vuoi. Accolgo la tua volontà, così come tu ce l'ho insegnato in questi giorni. Il Vangelo di Luca è il Padre nostro. A te, Gesù, sia sempre l'onore e la gloria. Per tutti i secoli dei secoli. Amen. Ecco allora, cari amici, lo slogan di oggi. Beato chi ascolta la parola di Dio. E la mette in pratica. E la osserva. E la custodisce dentro di sé. Porterà grandissimi frutti. Grazie per avermi accolto. E un caro saluto e un abbraccio da parte mia. E della coinonia Giovanni Battista, oasi di Biella. A domani, ciao. Carissimi, potete già iscrivervi alle nuove serate bibliche dal tema La verità vi farà liberi. Come dice Gesù in Giovanni 8,31. Se rimanete nella mia parola, siete davvero miei discepoli. Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. 24 e 31 ottobre le iscrizioni sono sul nostro sito web. Vi aspettiamo. Carissimi, potete già iscriviti. Coi iscriviti. Carissimi, potete già iscriviti. Carissimi, potete già è usare uguale. Grazie a tutti.